Ho visitato la manifattura Girard-Peregaux ed è stato molto bello. Abbiamo visitato solo la villa, questa parte dove vengono accolti gli ospiti, con questa sala bellissima che abbiamo visto dopo gli orologi e invece questa sala immersiva in cui abbiamo scoperto la storia del brand, fino a passeggiare ancora per la storia del brand e arrivare nel museo, dove c'erano vari orologi, tra cui questo tourbillon su tre ponti, che è firma del brand bellissimo, la esmeralda da tasca, pazzesca, l'evoluzione della famiglia laureato, il caschette, e poi siamo andati nella parte atelier delle grandi complicazioni, con questo modellino dei tre ponti pazzesco, il loro tourbillon su tre assi, di cui abbiamo visto la gigantografia del globo che vedete qua, e queste sono le proporzioni, ovviamente indossando la solita giacca. Poi siamo passati su in boutique a vedere questi orologi molto belli, un po' tutta la famiglia laureato con questi due smalti pazzeschi, e poi basta, abbiamo visto delle altre cose ma non c'è abbastanza tempo. Ho mandato una cartolina a me stesso, mangiato un po' di caramelle, e se volete vedere altre cose commentatelo che vi faccio vedere altro.